Ciao ragazzi! Ricordate i nostri amici della Littlest Pet Shop? Bene, abbiamo un'altra enorme collezione! Wow, questa lattina è così grande, che spettacolo! Vedete questo divertente cagnolino che ci sta già aspettando? È un cagnolino dog! E ci sono 24 sorprese in questa scatola, 24! Sì, sono così tanti giocattoli! 6 giocattoli all'interno e 12 per la collezione intera! Wow! Wow! Diamo un'occhiata dentro, non vedo l'ora! Wow, date un'occhiata a queste lattine colorate! Ehi, tu vieni qui piccolo! Eccoti simpatico animaletto! Il tuo cappello è fantastico! Possiamo toglierlo e poi rimetterlo! E guarda questi bottoni e il papillon! C'è anche un bello dog qui! Adorabile! Ecco qui! Il tuo dolcetto preferito! Gnam gnam gnam! Resta qui e nel frattempo tireremo fuori tutte le lattine! Tu per prima! Allora... Chi ci sarà qui dentro? Wow, ci sono due blind bags! Ehi, Siu! Stai di nuovo facendo l'unboxing di qualcosa di interessante senza di me, vero? Oh, guarda dei dolci! Sam, sono per dopo! Ah, ok, ok! È ora di vedere che abbiamo qui! È una scimmia! Anche la nostra scimmietta è una banana! Sì! Ma guarda che vestito che hai! E vediamo adesso il tuo accessorio! Apriamo! Oh, è un cappello! E su! Ah, oh, penso che sia il contrario! Solo un secondo! Sì, così va meglio! Attenta all'orecchio! Ta-da! Che altro c'è nella baggy? Oh, è una banana! È dorata ed è così carina! Andiamo da mangiare alla nostra scimmietta! Ok, scimmia, mettiti qui! Non dimenticare la tua squisita banana! Gnam, gnam, gnam! Forse non hai fame, eh? Siu, 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 Siu! Aia! Siu, stavo correndo da te per dirti qualcosa di importante e... E mi sono scordato di che si trattava! Te lo dico quando mi ricordo! Ok, Sammy! Nel frattempo apriremo la prossima lattina! Chi ci sarà dentro? Ecco le nostre baggy! E adesso possiamo aprirle! Oh, sono così emozionata! Chi ci sarà? È un dolcissimo gattino! Occhi verdi! Una bella coda! Caspita, sei dentro un hamburger! Che figo! E quale sorpresa abbiamo qui per te, piccolino! Wow, ci sono due oggetti! Guardate, abbiamo un piccolo cetriolo! E poi c'è un frappè fighissimo! Probabilmente alla menta! Ecco il nostro grazioso gattino con il cetriolo e il frappè! Andiamo avanti! Wow, Sam, che cos'è questo? Ho trovato qualcosa di interessante dentro gli involucri! Ma non hai ancora spuntato i giocattoli, vero? Sì, vero! Grazie per avermelo ricordato, Sammy! I nostri pet non hanno un catalogo, quindi li spunteremo qui! Ecco il nostro cagnolino Dog che è un pet dell'edizione speciale! Poi abbiamo la scimmia! Ed il simpatico gattino! Metterò da parte il nostro catalogo per adesso e apriamo una nuova lattina! Eccoci qui! Esci fuori, forza! Ti ho preso! Per prima cosa vediamo gli accessori! Fatto! Eccoli due oggetti come prima! Diamo un'occhiata più da vicino, ok? Oh, è una fascia! E qui abbiamo due belle fragoline! Voglio proprio sapere di chi sono! E tra un attimo tirerò fuori il nostro giocattolo! Forza, forza! Eccolo! Wow, è... Oh, è una tartaruga! È così carina! E il tuo guscio è adorabile! Proviamo i tuoi nuovi accessori e sei pronta per brillare, piccolina! Ah, la nostra bellissima tartaruga! Ecco qui, le tue fragole! Miam, miam, miam! Hai davvero tanta fame, vero? Fammi trovare la nostra tartaruga! Eccola qui! Per qualche motivo qui sei rosa e non verde! Questa lattina è di un colore magico! Dai, piccolo animaletto, smetti di nasconderti! Sto per incontrarti, baggy 1 e 2! Ah, non vedo l'ora! E... 1, 2, 3! Forza, che cosa c'è? Oggetto 1 e oggetto 2! È un piatto! Con una fantastica ciambella! E questa qui sembra una cannuccia per sorseggiare qualcosa! Adesso tocca all'animaletto! Avanti, baggy, apriti! Oh, ciao, gattino! Adoro il colore verde acqua e la tua frangia è bellissima! I tuoi occhi sono davvero particolari! Che spettacolo! Ecco il tuo bellissimo cappello, gattino! Stai un sacco bene! Vieni qui! Ragazzi, rimangono soltanto due lattini! E... Così tante, baggy! Oh, Susie, che succede? Ragazzi, se vi piace vedere i trucchi nei nostri video tanto quanto a me, assicuratevi di darci un pollice in su e di iscrivervi al canale! Susie! Ti sono mancato? Ma certo, Sammy! E adesso vediamo il prossimo giocattolo! Oh, ma è un altro gattino! E questo gattino ha una coda da pesce! Forse perché arriva direttamente dal sushi! A voi piace il sushi, ragazzi? Oh, a me tantissimo! Commentate e ditemi quale preferite! E qui abbiamo... Guardate che accessori insoliti! Sembra... Un pettine del mare! E questo qui è sushi, vedete? C'è del riso e del pesce! La tua corona ti sta aspettando, gattino! No, davvero, questo pettine è fantastico! Continuiamo, ragazzi, e vediamo che cos'altro abbiamo qui! Il nostro prossimo pet ci sta aspettando! Ehi! E tu chi saresti? Un cagnolino messicano! Ta 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 ra 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 ra! Che accessori hai, eh, cagnolino? Mostrami il tuo tesoro! Oh, interessante! Un delizioso lime! E questo qui deve essere un taco! Niam niam niam! Che buono! Pronto per unirti ai tuoi amici? Ecco qui, ti è piaciuto? Bow bow! Miao miau! Oh beh, buon per voi! Ecco il tuo accessorio, cagnolino! E il tuo taco! Il dolcetto del nostro gattino è qui! Adesso spuntiamo i nostri amici! Gattino numero uno! Gattino numero due! E dov'è il nostro cagnolino? Proprio qui! Ehi ragazzi, adesso facciamo l'unboxing di questi set! Che abbiamo qui! Una civetta, un granchietto, un cagnolino, un gattino e persino una bella volte! Qui dice tira, ok? Sammy, ma che cos'è questo? È un distributore automatico! Basta lasciarci cadere una moneta e comincia a funzionare! Ma Sammy, è solo una foto! Ma sembra così reale! Sì, anche la tua moneta lo è! Allora me la mangio! Ok, riproviamo! Forse se faccio così... Bingo! Wow! Chi c'è qui, eh? Oh, è una volpe! Che cosa c'è sulla testa della nostra piccola volpe? Oh, lo so cos'è! È una lattina di soda! Fantastico! Il prossimo! È un cagnolino! Ma che bello! È così figo, non pensate? Voglio dire... Guarda questo brillante cappello a banana! E si muove in modo divertente! Ciao, è tempo di familiarizzare! È una civetta! Sì, io penso che il tuo uccellino abbia lasciato il nido! Pronta per prenderlo? Wow, Sammy, grazie! Pensavo già di averti perso, uccellino! No, ma guardate quanto è carino il nostro piccolino! Che bel cappello, vero? Con tutte queste ciliegie! È una bella coda abbiamo qui! Ti metteremo qui e vedremo gli altri adesso! Ragazzi, mentre Sam era impegnato a catturare il nostro uccellino, ho trovato questi qui! Vi piacciono le more? A me tantissimo! E guarda che coda carina! Piccolo granchietto, è il tuo turno! Ehi, ma hai un'anguria sul cappello! È un fantastico guscio viola e degli artigli carini! Oh, ragazzi, non vedo l'ora di aprire questo! Caspita, tutti i pezzi che abbiamo già trovato sono elencati qui, vedete? E da questa parte abbiamo le foto di tutti i pezzi che troveremo adesso! Cominciamo! Oh, ma chi abbiamo qui? Ciao, cangurino! Oh, guardate la coda, che bella pancia! E qui abbiamo del lime e della menta! Mmm, fanno una deliziosa limonata estiva insieme! E chi viene da me adesso? Tu! Vieni qui! Ciao, piccola ape! Non c'è miele, vero? Eh no, ma c'è una marmellata di fragole! Per quanto riguarda le ali, beh, sono meravigliose! E qui abbiamo un bellissimo gattino! Miau! Con questa deliziosa arancia sul cappello! Ehi, gattino, la tua coda è così luccicante! E il gattino va qui! Prendiamo il fenicottero adesso! Questo cappello ad ananas è super trendy! Ma guarda qui che figo! Mi piace un sacco! Adesso mostra le tue gambe lunghe e sottili e il tuo bellissimo becco! La cucaraccia, la cucaraccia! Nanananananana! Come balli bene! Ragazzi, il nostro ultimo pet! Questo cagnolino è proprio favoloso! Con i capelli che si abbinano alla decorazione dell'uva sul cappello! Oh, guardate, è spettacolare! Fantastico! E... Bow, bow, bow! Ok ragazzi, abbiamo messo insieme un'intera squadra oggi! Se vi sono piaciuti i nostri pet, assicuratevi di darci un pollice in su e di commentare! Io vado! Ciao per adesso! Ciao! Grazie per la visione!